Salve amici di AdventsItalian, in questo video andremo a vedere la prova orale dell'esame PLIDA livello B1. Questo è un esame che dura circa 15 minuti, diviso in due parti e presentazione. La presentazione non è oggetto di valutazione, quindi non verrà valutata, non prenderete un voto. Dovete semplicemente presentarvi e questo serve a mettervi a vostro agio, quindi a rompere un po' il ghiaccio, perché ovviamente una persona parlando si sente più a suo agio, più tranquillo e gli esaminatori tendono a fare questo, a farvi parlare un po', a presentarvi così sembrate un po' più tranquilli e siete in grado poi di svolgere la prova tranquilli e senza stress. L'intervistatore dopo essersi presentato, quindi prima si presenterà a lui, chiederà a voi di presentare brevemente voi stessi, di spiegare il motivo dello studio dell'italiano e di parlare dei vostri progetti. Quindi ciao, sono Marco, ho 20 anni, studio economia e vorrei lavorare per una grossa azienda qui in Italia. Prima parte, 3-4 minuti circa più 3 minuti di preparazione, quindi in tutte le parti dell'esame avete sempre qualche minuto di tempo per prepararvi. Cosa significa? Avrete il testo davanti a voi, leggerete la domanda, scriverete su un foglio qualche parola chiave per avere poi un'idea più chiara riguardo a ciò che volete dire. Usando parole chiave vi aiuta perché quando poi parlate avete la parola davanti. Se ad esempio volete dire non mi piacciono queste scarpe perché sono troppo costose, il colore non mi si addice, eccetera, scrivete semplicemente caro, poi colore e una volta che avete letto la parola sapete già a cosa vi riferite. Invece se provate a scrivere tutta la frase i tre minuti non vi basteranno, quindi fate attenzione, scrivete solo parole o simboli, dipende. Ad esempio invece di scrivere più mettete il segno più. Invece di scrivere moltiplicato mettete una piccola x, il segno della moltiplicazione e così via. I due candidati o il candidato e l'intervistatore devono assumere due roli diversi in una situazione data o prendere una decisione comune dopo aver confrontato o valutato insieme delle alternative sulla base di uno stesso input. Per esempio scegliere un viaggio o un corso da fare insieme sulla base di un dépliant. I candidati ricevono una scaletta dettagliata per pianificare la loro interazione. Quindi cosa significa? Solitamente ci sono due studenti all'esame, l'esaminatore valuta la prova, però gli studenti devono fare una sorta di intervista tra di loro basandosi su... ...l'esempio che c'è qui. Leggete l'esempio, leggete le domande e vi mettete d'accordo l'uno con l'altro. Dovete fare per un momento gli attori, quindi dovete mettervi d'accordo riguardo a come risolvere questo problema, ad esempio. E cosa dovete dimostrare? Dovete confrontare e valutare alternative, esprimere opinioni personali, spiegare le vostre scelte e scambiare informazioni sui argomenti di interesse personale o riferiti alla vita di tutti i giorni, esprimendo accordo o disaccordo. Quindi, in questo caso, qual è il compito che dovete fare? Cari, come state? Il primo giugno è arrivato, finalmente potremo passare insieme una settimana intera. Ripartirò domenica sera, che bello. Il mio aereo arriva alle 3 del pomeriggio e penso di prendere un taxi per andare in albergo. Non ci possiamo incontrare direttamente a cena. Ah, ho visto su internet che da voi ci sarà il Festival del Cinema. Voglio assolutamente andare a vedere con voi qualche bel film. E questa volta mi dovete portare al Museo della Scienza. Me lo avete promesso. Non vedo l'ora di rivedervi. A presto. Qui. Potete dire. Ciao Marco. Hai visto che Stefano ritorna questa settimana e sta una settimana con noi? Sì, ho letto anch'io la sua mail. Dobbiamo organizzarci per stare e passare più tempo con lui. Sì, hai ragione. Ma chi di noi va a prenderlo all'aeroporto? Tu sai a che ora arriva? Arriva alle 7 di sera. Beh, io non ce la faccio perché lavoro il pomeriggio. Però potresti andarci tu, siccome lavori la mattina e finisci alle 4 il lavoro, poi hai 3 ore di tempo per prepararti e andare a prenderlo, no? Sì, non c'è problema, ci vado io. Però dobbiamo anche trovare il modo durante questa settimana di non lasciarlo da solo la sera. Beh, io la sera sono sempre disponibile. Io invece solo il giovedì e il venerdì, che torno alle 8, però giovedì e venerdì potremo organizzarci per uscire con lui tutti e tre. Sì, sarebbe un'ottima idea. E chi lo accompagnerà al cinema e al museo? Beh, il museo apre dalle 8 alle 12, tu non ci puoi andare perché lavori la mattina. Io, siccome lavoro la sera, potrei portarlo io. Andiamo insieme, facciamo colazione, io e lui. E poi andiamo entrambi al museo. Poi tu sai che a me piace tanto andare al museo, quindi mi divertirò anch'io. Sì, perfetto. Quindi io lo prendo all'aeroporto e tu lo porti al museo. E al cinema? Beh, al cinema potremmo andare entrambi perché ci sono quei film che iniziano alle 10 di sera. Siamo tutti disponibili. Potremmo andare a vedere Parasite che ha vinto l'Oscar. Quindi penso che sarà un'ottima opportunità per passare del tempo con lui, ma anche per divertirci perché è un film che entrambi volevamo vedere. Sì, questo è un'ottima idea. Poi il fine settimana siamo tutti e due liberi. Possiamo andare a mangiare qualche pizza, lo portiamo al parco, gli facciamo vedere un po' la città e gli facciamo conoscere alcuni dei nostri amici. Sì, potremmo anche organizzare una festa da noi la sera con i nostri migliori amici e sono sicuro che ci troveremo tutti bene insieme. Perfetto, perfetto, ciao. Quindi abbiamo svolto il dialogo, io in questo caso ho svolto entrambi i ruoli, però come potete notare dovete trovare il modo di portarlo all'aeroporto, di non lasciarlo solo la sera e di accompagnarlo al cinema o al museo. E siccome lui sta una settimana, per continuare un po' il dialogo potete anche ovviamente mettervi d'accordo riguardo a ciò che farete il fine settimana, il sabato e la domenica. Hai prenotato, questa è l'interazione con l'intervistatore. Hai prenotato un corso di lingua italiana con questo programma. Informazioni sul corso, ore di lezione a settimana 40, giorni dal lunedì al venerdì, orari dalle 9 alle 12, numero di studenti per classe minimo 4, massimo 12, età minima 20, 20 anni e livello B1. Quando inizi il corso scopri che in classe ci sono 20 studenti, tutti molto giovani e che durante la lezione c'è sempre molta confusione. Tu non sei contento di questa situazione, vai in segreteria e spieghi perché non sei contento, dici che cosa ti aspettavi dal corso, cerchi di trovare una soluzione con il segretario. Il segretario sarà l'intervistatore. Quindi qual è il problema? Il problema è che le informazioni del corso non coincidono con la realtà. Ci hanno promesso qualcosa di diverso e ci danno una cosa totalmente diversa. Salve, buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Marco e sono uno degli studenti iscritti al corso di italiano livello B1. Salve, come posso aiutarla? Beh, io mi sono già iscritto e ho pagato i 200 euro del corso, però ci sono dei problemi con la strutturazione del corso. Cosa intende? Beh, come lei sa, noi abbiamo ottenuto un foglio di informazioni prima che cominciasse il corso. Sì, è quello che vi ho dato io, appunto. E si parla di 40 ore a settimane, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e va tutto bene. Le ore si fanno così, siamo d'accordo, però il problema è il numero di studenti per classe. È un massimo di 12? No, no, purtroppo abbiamo un problema con una delle aule. Noi siamo due gruppi da 12 studenti in due aule diverse. Il problema è che una delle aule non è funzionale per il momento e quindi siamo costretti, entrambi i gruppi, a fare lezioni insieme. E siamo 20 studenti. Ah, capisco, sì, purtroppo non abbiamo ancora sistemato quel problema e quindi in 20 facciamo fatica a metterci d'accordo perché il problema è anche che l'età minima non è 20 anni ma è 15. Ci sono anche alcuni 15 anni che non prestano molta attenzione alla lezione, sono molto problematici e non ci permettono di ascoltare bene. Capisco, questo è qualcosa di molto brutto perché crea molta confusione e bisogna assolutamente sistemarlo. Noi puntiamo ad avere l'altra aule a disposizione la prossima settimana e in quel momento divideremo gli studenti, quelli più giovani li metteremo nell'altra classe. Quello che possiamo offrirgli è questo. Lei può ricevere uno sconto nel nostro livello B2 se intenderà continuare con noi oppure le diamo indietro la metà dell'importo che lei ha pagato, quindi 100 euro. Cosa ne dice? Beh, io ho fatto da voi anche il livello A1 e il livello A2, sono molto contento, molto soddisfatto dei vostri corsi, quindi voglio sicuramente fare anche il B2, quindi accetto lo sconto sul corso B2. Perfetto, allora facciamo così. La ringrazio e le chiedo scusa dell'inconveniente. Non si preoccupi, grazie a lei per la disponibilità e buona giornata. Qui abbiamo la seconda parte, 3-4 minuti più ovviamente la preparazione, ma qui si tratta di un monologo. Cosa significa? Non dovete interagire con l'interlocutore, quindi con l'esaminatore o l'altro studente, perché siete da soli. Dovete leggere il compito, prepararvi 3 minuti, scrivendo anche qui parole chiavi e poi dovete parlare senza essere interrotti per 3-4 minuti. Per svolgimento della prova, sulla base di uno o più input di tipo testuale e o visivo, quindi avrete un testo oppure qualche foto, il candidato prepara un monologo nel quale affronta un determinato tema facendo riferimento agli input ricevuti e alla propria esperienza personale. Il candidato riceve una scaletta che lo aiuta a pianificare il monologo, alla fine del monologo il candidato risponde ad una domanda dell'intervistatore. Cosa bisogna fare? Le competenze che dobbiamo dimostrare qui sono parlare di eventi, fatti e azioni del passato recente, fare semplici e brevi narrazioni, descrivere semplici attività relative al proprio campo di interesse, studio e lavoro, parlare dei propri sogni, speranze, intenzioni e previsioni per il futuro, quindi più o meno della vita in generale, di quello che volete fare, di quello che vi piace, di quello che vi è successo, esperienze, eccetera. Guarda l'immagine e leggi il testo. Lavorare a maglia, dipingere, fotografare, fare teatro, spesso queste attività ci sembrano perdite di tempo inutili, ma secondo una ricerca le attività creative che facciamo fuori dal lavoro fanno avere risultati professionali migliori. Un professore americano ha osservato le abitudini di 341 persone con lavori e hobby diversi e ha scoperto che i loro hobby le aiutano a lavorare meglio. Per esempio, chi ha un hobby creativo è più bravo ad affrontare e risolvere i problemi sul lavoro. Adesso prepara il tuo discorso. Nei tre minuti del monologo dovrai riportare brevemente la notizia, quindi riassumere la notizia. Come dovete fare? Siccome avete solo tre minuti dovete scrivere parole chiave. Quindi, ad esempio, hobby uguale rendimento lavorativo, americano 341 persone e basta. E magari anche dipingere, fotografare, eccetera. Quindi, 5-6 parole. Dipingere, fotografare, eccetera. 341 persone e hobby uguale attività professionali. O rendimento professionale. Quindi, queste sono le parole chiave che poi, leggendole, vi aiuteranno a svolgere. Il riassunto che vi farò, vi riporterò io successivamente. Quindi, poi dobbiamo raccontare qual è il tuo hobby e come lo hai scoperto e quando lo fai. Dire se il tuo hobby ti aiuta anche nel lavoro e in che modo. Rispondere alla domanda dell'intervistatore. Quindi, in questo testo ci viene presentata la correlazione tra hobby e rendimento lavorativo. Uno studio di un professore americano che ha studiato 341 persone, basandosi sui loro hobby e sul loro rendimento lavorativo, ha dimostrato che le persone che hanno qualche hobby creativo riescono ad avere un rendimento migliore al lavoro. Questo è il riassunto. Ovviamente non dobbiamo leggerlo, dobbiamo riportarlo con le nostre parole. Anch'io ho un hobby, quindi il numero 2 qui, che è dipingere. Mi piace dipingere, l'ho scoperto quando ero piccolo, a scuola. Mi piaceva molto fare i ritratti, dipingere, passavo molto tempo anche a casa facendolo e ho conservato questa passione anche con il passare degli anni. Ogni volta, il fine settimana, quando ho un po' di tempo libero, cerco di dipingere, di disegnare qualcosa. E devo dire che questo mi aiuta anche al lavoro. Numero 3. Perché? Perché siccome spesso per dipingere devo stare 3-4 ore, questo mi aiuta, questo richiede massima concentrazione e pazienza. E avendo sviluppato queste due caratteristiche, ho risultati migliori anche al lavoro, perché sono sempre più paziente e più concentrato in quello che faccio. Rispondi alla domanda dell'intervistatore. Qual è, ad esempio, l'ultimo disegno o ritratto che hai fatto? Beh, ho ritratto una mia amica e questo era il regalo di compleanno che le ho fatto. Ah, molto interessante. Mi piace la sua passione. Ha anche altre passioni, ad esempio. Beh, mi piace anche fotografare. Siccome viaggio molto, quando viaggio cerco di fare molte foto e poi le stampo e ho molti album con le foto. Spesso quando sono stressato mi piace vedere dove sono andato. Questo mi tira sul morale. E anche al lavoro, quando spesso faccio pausa e faccio pranzo, mi guardo un po' i posti dove sono andato e faccio qualche piano riguardo ai posti in cui vorrei andare. Questo mi tiene sempre motivato e tranquillo al lavoro. Sono entrambe passioni che mi portano benefici anche al lavoro. Perfetto, perfetto. Quindi, come potete notare, non è molto difficile. Ognuno deve usare le sue idee, però, nell'ultimo caso, ad esempio, potete anche trovare una passione che non è una di queste qua. Ad esempio, mi piace collezionare Franco Bolli. Passo ore ed ore con la mia collezione e anche questo, come ho detto io, mi rende più concentrato, paziente e questo mi aiuta anche al lavoro perché, siccome ho molti colleghi che hanno personalità diverse, devo imparare a cooperare con loro e rispettarli, nonostante abbiano caratteristiche o parti del loro carattere che non mi piacciono. E qui, ovviamente, leggendo le informazioni, il problema è che le informazioni che ci hanno dato non sono vere perché il corso è diverso. E cercate anche qui di inventarvi qualcosa. potevate anche dire qualcos'altro. Ad esempio, siamo in 20 e io sono l'unico che ho più di 20 anni. Tutti gli altri hanno meno di 20 anni. Oppure la professoressa non insegna bene perché ci fa leggere, fare esercizi in continuazione ma lei non spiega la lezione. Noi siamo in un livello B1 che non è molto avanzato. Abbiamo bisogno di imparare grammatica, lessico, eccetera. Lei deve darci di più, deve insegnarci di più. Non deve pretendere che noi risolviamo tutto da soli perché se no non avrebbe senso venire a lezione. Un esempio. Quindi si può inventare qualsiasi cosa. E anche qui potete dire il contrario. Ad esempio andiamo a prenderlo insieme all'aereo tu vai a portarlo qui io lo porto lì. Il fine settimana andiamo a giocare a calcio oppure andiamo al teatro andiamo da da mia zia perché anche lei vuole conoscere il nostro amico e ci ha invitato a mangiare una pizza da lei lei prepara pizze meravigliose e ha il forno a legna a casa quindi le pizze escono stupende meglio che in pizzeria di tutto e di più potete dire. L'importante è stare tranquilli dovete cercare di usare le parole che conoscete bene non è importante fare scrivere un libro a riguardo dovete parlare due o tre minuti quindi questo significa che parlerete poco cercate di usare le parole che conoscete se dite due o tre frasi corrette le avete superato l'esame anche se il vostro italiano non è perfetto e ricordatevi che l'esaminatore non è lì per bocciarvi come avete visto anche all'inizio dice questa parte la presentazione serve a mettere il candidato a proprio agio quindi gli esaminatori vogliono che voi vi sentiate a vostro agio che siate tranquilli anche se interverranno a volte vi faranno qualche domanda anche nel monologo quando teoricamente non dovrebbero intervenire perché dovete parlare da soli loro se vedono che voi non siete in grado di parlare vi faranno qualche domanda per aiutarvi a riprendere il discorso quindi cercheranno di fare di tutto perché voi possiate passare l'esame non dovete considerare l'intervistatore come il vostro nemico non è questo il senso del discorso loro ovviamente vogliono che voi superiate l'esame quindi cercate di stare tranquilli perché se siete tranquilli quello che conoscete lo userete al meglio se siete agitati vi dimenticherete anche quello che sapete quindi non avete buoni risultati io vi auguro un in bocca al lupo se dovete svolgere questa prova e vi invito ovviamente ad entrare nel mio canale e di dare un'occhiata alle varie playlist che ho fatto questa è ovviamente la prova orale del livello Pli da B1 ma ci sono anche esami Celi B1 prova orale CLS B1 e ovviamente anche i livelli B2 A1 A2 C1 e no il C2 non l'ho ancora fatto ma se avrò richieste in futuro proverò a fare anche quella vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video ciao